Benvenuti a questa edizione in diretta dell'Oiesigine Apertura tutti i 27 sindaci del comprensorio di Sora in provincia di Frozzidone e di Roma per partecipare all'incontro convocato dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti allo scopo di esaminare la situazione del nosocome della Santissima Trinità. Le assicurazioni fornite dal Presidente della Regione hanno portato a sospendere dopo 7 giorni la protesta attuata contro i tagli. Sentiamo. Beh, è stata una riunione utile. Abbiamo confermato alla delegazione dei sindaci che a Sora non chiuderà nulla, non era prevista mai nessuna chiusura e anzi, come in tutto il Lazio stiamo costruendo le premesse per nuovi investimenti che lì vorranno dire a Sora introdurla nella rete con la costruzione di un polo ecologico di assoluta eccellenza con un investimento di qualità e di quantità di personale che non vorrà dire questa era un'altra paura la chiusura di altri reparti ma un'integrazione all'ospedale che già c'è per attirare nuove e dargli una nuova dignità quindi in questo c'è stato un chiarimento per quanto riguarda la loro richiesta l'idea di primo livello verificheremo se ci sono i requisiti allo stato attuale non ci sono può essere un discorso in prospettiva ma soprattutto come è nella programmazione sia Atina che l'Isola Liri andiamo avanti con l'ospis e la Casa della Salute proprio per costruire anche in quel territorio come era previsto una sanità territoriale la vera novità che per il Lazio è una svolta è che gli abitanti del Lazio sono 313.000 in più rispetto al numero utilizzato per definire la quota del Fondo Nazionale e cioè l'Istat dopo le verifiche che ha effettuato e che erano di prassi con le nuove segnalazioni dei comuni ha certificato dal 31-12-2013 gli abitanti del Lazio in 5.870.451 abitanti quindi una differenza di oltre 300.000 abitanti che saranno la base per la costruzione del riparto del Fondo Nazionale io sono molto contento perché questo in primo luogo fa giustizia sulla battaglia che abbiamo condotto non contro qualcuno ma per difendere i diritti dei cittadini del Lazio segnalando quello che a nostro giudizio era una discrepanza rispetto ai dati ora con i dati inseriti questa fase si chiude voglio ringraziare il sottosegretario del Rio il ministro Lorenzin il governo che in questa fase comunque ci ha fatto sentire la propria vicinanza rispetto alle nostre prerogative e ripeto si apre la possibilità di una svolta storica perché nel riparto del fondo si avvicinano e concretizzano tantissimo le possibilità per il Lazio di uscire presso dalla fase commissariale quindi è una bellissima notizia che aiuta questa fase di costruzione della nuova sanità del Lazio sono appena 17 comuni italiani che hanno attivato la possibilità di esprimere sulla carta di identità la volontà di donare gli organi una cifra che però dovrebbe aumentare nel corso del 2014 con molte regioni che si stanno attrezzando lo affermano le cifre del sistema informativo del centro nazionale tra pianti la possibilità per i comuni di far inserire la volontà del rinnovo del documento è iniziata nel marzo 2012 e da allora è stata ribadita attraverso diversi provvedimenti tra cui il decreto del fare del governo Letta ad aderire però oltre ad alcune città in Umbria nelle Marche in Emilia Romagna e pochi giorni fa a Roma che ha iniziato da un singolo municipio di cui il sistema ha già registrato 28 adesioni e ogni anno nell'Unione Europea circa 4 milioni di pazienti hanno un'infezione ospedaliera e almeno 37 mila di loro muoiono per le conseguenze e quanto rileva il report della Commissione Unione Europea sulla sicurezza del paziente e infezioni ospedaliere il rapporto che è accompagnato da altri due documenti rappresenta una valutazione dei progressi fatti nell'ambito della sicurezza dei pazienti dalla raccomandazione sul tema del 2009 del Consiglio ma gli ostacoli da rimuovere tagli al budget scarsa consapevolezza del problema cultura della colpa e non dell'analisi delle cause scarso coinvolgimento pazienti sono ancora molti la buona notizia ha dichiarato Tonio Borg commissario per la salute è che la maggior parte degli stati ha attuato programmi per la sicurezza dei pazienti la cattiva è che nonostante i progressi nelle strutture sanitarie continuano a registrarsi eventi sfavorevoli e la sicurezza dei pazienti è raramente contemplata nella formazione del personale sanitario le stime segnalano come l'8-12% dei pazienti ricoverati in ospedale subisce un evento avverso come un'infezione associata all'assistenza sanitaria si calcola che in un dato giorno almeno un paziente su 18 ricoverati in ospedali europei ha un'infezione ospedaliera si sime inoltre che il 20-30% delle infezioni nosocominali può essere evitato applicando programmi intensivi di igiene e controllo delle infezioni non si tratta solo di una questione di salute pubblica si legge nel report questo problema rappresenta un notevole onere economico e no ai dottoranti per la casa usare prodotti ecologici per la pulizia prodotti cosmetici e saponi senza formaldeide ma soprattutto no al fumo dentro casa sono alcuni dei consigli dei pediatri famiglia per proteggere i bambini dall'inquinamento indoor cioè all'interno degli edifici in quanti soggetti più a rischio dal momento che trascorrono l'80-90% del loro tempo in luoghi chiusi come spiega la scheda informativa redatta dalla Federazione Italiana Medici Pediatri e dell'Associazione Medici per l'Ambiente nell'ambito del progetto Bambini Ambiente e Salute non si è ancora sufficientemente consapevoli che l'inquinamento interessa anche l'interno degli uffici e può avere effetti nocivi sulla crescita proprio dei bambini Rush finale per il piano di riento triennale previsto dal decreto Salva Roma potrebbe essere questa la settimana decisiva per l'ok della Giunta Marino e oggi la bozza elaborata dal Campidoglia arriverà per la prima volta a Palazzo Chigi dove il sindaco ne illustrerà il contenuto abbiamo una serie di incontri stasera e domani con l'assessore Silvia Scozzese e con il sottosegretario Giovanni Lenini annunciato Marino può incalendare una prima presentazione informale a Palazzo Chigi con il sottosegretario Graziano del Rio domani sarà un tavolo preparatorio aggiunge che viene prima del momento in cui ci presenteremo con i numeri in questo modo del Rio informalmente avrà una presentazione da parte mia di Scozzese e di Lenini che è stato un po' il regista del piano il piano di rientro prevede di riordinare la giungla delle partecipate confusioni e liquidazioni risparmiare i rivedenti contratti di servizi a partire dall'inominazione pubblica ma anche tenere la spesa corrente sorvegliata speciale anzi ridurla drasticamente in tre anni l'obiettivo del Campidoglio è una spending review su 4 miliardi e mezzo con taglio da quasi 445 milioni di euro le ipotesi su dove poter sforbiciare vanno dai fitti passivi all'utenza telefonica e dall'energia per gli uffici a quella per le strade e per quanto riguarda invece le partecipate si parla di ridurre il loro numero di 15 e 20 massimo unità e nel ciclismo amatoriare il doping non accenna a diminuire anzi la percentuale di controlli positivi è aumentata in un solo anno del 50% passando dal 4,4 al 6,5% le afferme rapporto della commissione di vigilanza del ministero della salute secondo cui in medi il 3% degli sportivi della domenica assume sostanze con gli ove 40 in testa lo scorso anno si legge nel rapporto Nasse e ispettori del ministero hanno controllato 317 manifestazioni sportive amatoriali per un totale di 1390 atleti testati quasi un quarto dei controlli riguardato gare ciclistiche e il 15% partite di calcio bene questa era l'ultima notizia di questa nostra edizione in diretta dello ISG l'appuntamento è per domani ancora per una nuova edizione buon proseguimento con i programmi di ISV arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti